Giovani di note riparte. L'edizione 2010 è alle porte e a Night and Day, la provincia di Belluno, in collaborazione con la Web & Graphic, presenterà quattro puntate dedicate interamente alla manifestazione, presentandone le finalità, i protagonisti on stage e nel backstage, eliminatorie, finale, premi ed ospiti. Nella prima clip di GDN, la provincia vi ricorda dove vi ha lasciati. Nel 2008, sul palco del teatro comunale, vincono i giovanissimi Smoke Circles. Rivediamoli. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501